Potrebbe riaprire entro Natale il sottopasso di via Torino, ristrutturato da RFI ed ancora chiuso dopo il braccio di ferro fra ferrovie e comune sulla messa in sicurezza. Nei giorni scorsi è stata consegnata la nuova cabina elettrica, collocata nei pressi della stazione e chiamata a garantire il funzionamento delle pompe idriche per il deflusso dell'acqua piovana. A ciò seguirà la delibera di giunta che sancirà la consegna incomodato all'Enel dell'area su cui è stata installata la cabina, che richiederà anche l'autorizzazione sismica da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Se tutto procederà velocemente, spiega l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Sica, entro Natale la struttura sarà riaperta al traffico.